quando penso alla calabria due cose mi vengono in mente la prima è il peperoncino mentre la seconda è il cirò io sono francesco questo è the wine channel e oggi vi presento duri di cantina scala cirò marina in provincia di crotone nella zona ionica della calabria qui cantina scala produce dal 1949 il cirò sia rosso che bianco oggi degusteremo il rosso superiore riserva uno dei suoi prodotti di punta che nell'intenzione della cantina stessa raccoglie ed esprime nella maniera più chiara e più decisa il carattere forte del cirò che si propone anche come vino da lungo affinamento come potete vedere dalla scheda questo vino è prodotto con 100% uve gaglioppo l'annata in degustazione è il 2013 e la gradazione alcolica è di 14 gradi e mezzo come sempre prima di degustarlo un'occhiata più da vicino all'etichetta e vediamo la nostra etichetta più da vicino duri cirò dei scala questa etichetta su fondo nero che quasi non si distingue rispetto alla bottiglia con il simbolo indorato della cantina e leggermente staccato la scritta stilizzata sempre della cantina scala andiamo a girare la nostra bottiglia per vedere le indicazioni obbligatorie di legge troviamo la denominazione cirò rosso classico superiore riserva annata 2013 classico formato da 75 14 gradi e mezzo di gradazione alcolica e è sempre una ripresa del nostro simbolo di relativo alla cantina questo simbolo in questo caso con un dorato meno accentuato che dire semplice bottiglia molto molto elegante forse questo contrasto un po scuro su scuro non la rende immediatamente visibile ma sicuramente gli conferisce una certa eleganza bene dopo aver visto come sempre la bottiglia andiamo a degustarne il contenuto e ad assegnare i classici voti e partiamo dal colore un rosso rubino brillante con riflessi granati andiamo a sentirlo al naso naso decisamente complesso si parte dalla frutta di bosco matura per poi passare a note speziate di tabacco e liquidizia e con una chiusura sono note che richiamano la macchia mediterranea andiamo a sentire al gusto ampio persistente avvolgente e morbido e ritroviamo anche le note che abbiamo sentito al naso e sicuramente la persistenza rimane lungamente in bocca bene dopo averlo degustato possiamo assegnare i classici voti per la fascia di prezzo questo vino prende due bottiglie su cinque si trova in vendita tra i 15 e 18 euro a bottiglia un prezzo consono per questo prodotto per la versatilità assegno tre bottiglie su cinque questo è il classico vino da carne da piatti importanti dai gusti decisi da arrosto o d'agnello stufato regala ottimo sostegno anche a piatti di selvaggina e a formaggi staccionati non lo consiglio invece con il pesce o con i dolci sulla facilità di beva assegno cinque bottiglie su cinque vino da compagnia da grande tavolata da piatto della domenica che vi farà divertire alla scoperta di tutte le sensazioni che vi può regalare di sicuro assieme al cibo non vi farà pentire di averlo assaggiato consiglio di aprirlo almeno mezz'ora prima del servizio a una temperatura tra i 18 e i 20 gradi e assegnando il giudizio complessivo e come sempre vi ricordo personale su questo vino do 5 bottiglie su cinque vino importante con diverse sfumature che vi ricorderete di aver bevuto richiama molto la regione d'origine con il suo carattere deciso secondo me può dare soddisfazioni ulteriori anche lasciandolo affinare ancora in bottiglia prezzo sicuramente interessante vi lascio il link al sito di cantina scala per avere una panoramica sui loro prodotti bene e anche per oggi la nostra degustazione termina qui se questo video vi è piaciuto un mi piace è gradito iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video e soprattutto se avete qualche dubbio qualche perplessità scrivetemela qui sotto nei commenti vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni la prima è che i minori di 18 anni non devono bere la seconda è che non bisogna bere prima di metterci alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità ciao e alla prossima con francesco su the wine channel